La notte ha portato a consiglio alla maggioranza di centro-sinistra in consiglio regionale che dopo la strigliata del governatore ha votato a favore del rinvio del voto dei tre ordini del giorno dell'Ilva. Emiliano in apertura di seduta per 25 minuti ha illustrato il risultato del suo braccio di ferro con il ministro Calenda e conseguente ricorso al Tar. La disponibilità di vedere un DPCM prima considerato immodificabile con relative convocazioni a Palazzo Chigi da parte del premier Gentiloni e promessa stesura di un documento integrativo, protocollo di intesa o accordo di programma. Interrompere la trattativa col governo proprio quando stiamo ottenendo i primi risultati e dopo che gli enti locali sono stati finalmente riconosciuti legittimati come interlocutori sarebbe un passo indietro per la Puglia, ha spiegato Michele Emiliano. La sua richiesta di rinvio della discussione è stata legata all'impegno di portare poi ancora in consiglio la bozza dell'eventuale accordo col governo e ha convinto la sua maggioranza, ad eccezione di Borracino, che non ha voluto recedere dalla sua richiesta di ritiro del ricorso al Tar e dell'ex assessore all'ambiente Sant'Orsola. Alla fine 26 voti a favore e 19 contrari e la partita Ilva si torna a giocare a Roma. Se non avessimo presentato il ricorso non avremmo avuto alcuna possibilità di interlocuire con il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di discutere del piano industriale e del piano ambientale nonché di tutte le clausole lì inserite che attengono a materie di strettissima competenza del governo e del Consiglio regionale. Sembrava stretto nell'angolo Michele Emiliano dopo il ricorso al Tar contro il decreto che condannava all'Ilva un copione già drammaticamente sperimentato. Dal governo con il ministro Calenda che minacciava la chiusura dello stabilimento, dal gruppo acquirente, dai sindacati, da tanti esponenti di primo piano della sua stessa maggioranza che avevano paura di finire travolti e in piena campagna elettorale dell'ennesimo durissimo scontro frontale con l'esecutivo guidato da un premier dello stesso partito. Ma la sua testardaggine, come ha detto il Consiglio regionale Pino Romano, uno dei perplessi di articolo 1, ha prodotto risultati inimmaginabili in una vicenda che ha sempre visto la regione Puglia recitare un ruolo marginale negli anni, nei decenni. Al punto che in aula il governatore ha potuto manifestare la sua fierezza nel voler difendere il ruolo delle istituzioni davanti a una fabbrica così grande e potente da poter esercitare ricatti. Un'accusa durissima e una critica esplicita anche ai suoi predecessori, ribadita pubblicamente. Ma dall'angolo Emiliano è uscito proprio grazie alla sua capacità di difendersi attaccando e adesso il match per salvare Taranto e i Tarantini non solo lo stabilimento può continuare senza un finale scontato e una sconfitta annunciata. Sono ancora aperte le ferite dell'ultimo congresso provinciale del Partito Democratico, ferite talmente profonde che a distanza di quattro mesi Iaia Calvio decide di gettare la spugna del ricorso depositato a Roma in seguito all'elezione di Liazzarone con circa l'80% dei consensi dei democratici di Capitanata. Non sono servite quindi le convocazioni dalla direzione nazionale per risolvere i problemi legati all'anagrafe dei tesserati e alle presunte incompatibilità della sfidante. La commissione di garanzia non si esprime ancora. Le feste sono belle finite e con loro anche il tempo dell'attesa, almeno per me, per cui a quelli che a Roma stanno lambiccandosi il cervello per confezionare una decisione sui ricorsi presentati dalla mozione Calvio. Consiglio di lasciar perdere perché ormai sono fuori tempo massimo. Sono i fatti a dirlo, attacca l'ex sindaco di Orta Nova, secondo la quale una decisione già ci sarebbe, ma da Roma, complice alla campagna elettorale, non si avrebbe il coraggio politico di scrivere nero su bianco ogni determinazione. Per Calvio potrebbero aprirsi le porte di liberi uguali di Pietro Grasso, ma forse i tempi per una candidatura al Parlamento sarebbero stretti. In molti le fanno la corte, non è da escludere, informano dall'entourage di Calvio. Infine, la stoccata della Renziana ai vertici romani. Stia serena la commissione nazionale di garanzia, libera di non decidere lei, libera di decidere io, affonda Calvio. Dottore, due arresti e cinque d'aspo per gli scontri venuti in occasione della partita Foggia Frosinone. Si tratta intanto di un gruppo sparuto di tifosi foggiani, nei confronti dei quali già i club ultras in qualche maniera si sono dissociati. Quindi la Digos, devo dire la verità, aveva già avuto contezza di questa forma di scissione, per cui abbiamo potuto monitorare questi individui nel momento in cui loro si erano già nascosti nelle strade diacenti al luogo dove dovevano passare i tifosi ospiti. Quindi li abbiamo potuti monitorare e seguire nei loro movimenti fino a quando praticamente poi si sono resi responsabili di intemperanze con lancio di pietre e fumogeni e anche petardi nei confronti dei reparti delle forze di polizia che erano stati collocati proprio per arginare e per scongiurare un eventuale contatto con la tifoseria del Frosinone, che effettivamente non c'è stata. Sabato prossimo un'altra partita a rischio, Foggia Pescara. Ma io mi auguro che la tifoseria foggiana sta dimostrando già da un po' di tempo una maturità, capisca che questi atteggiamenti, questi comportamenti non portano a alcun risultato, sia per la rilevanza nazionale che può avere un eventuale episodio di intemperanza, ma anche perché non giova alla stessa tifoseria e quindi bisogna dare atto che effettivamente fino ad oggi, quindi fino alla partita col Frosinone, non si erano verificati questi episodi e comunque si è trattato di un gruppo sparuto isolato anche dagli altri Ultras. Peraltro a Pescara mi risulta che non ci siano stati problemi, quindi le premesse sono positive. La mission è riportare ordine e tranquillità nel quartiere Ferrovia, lo strumento per raggiungere l'obiettivo e la nuova postazione fissa della Polizia Municipale in piazzale Vittorio Veneto. Così l'amministrazione Landella, dopo l'installazione del sistema di videosorveglianza, cerca di riportare in auge la zona ormai preda di prostituzione e bivacco. Sarà un presidio fisso di sorveglianza, anche se per il momento le esiguità economiche e lo stato di predissesto non consentono il pattugliamento permanente 24 ore su 24. Questo è un segnale chiaro che questo deve diventare un presidio di illegalità. Questo quartiere purtroppo ha subito in questi ultimi dieci anni una totale disattenzione e quindi purtroppo con anche l'avvento dei flussi migratori. Le proteste dei cittadini in questi anni sono state vehementi, la situazione del quartiere Ferrovia è stata oggetto di incontri interistituzionali e soprattutto di confronti serrati con i residenti e le associazioni. Qualche spiraglio però, secondo gli amici del Viale, inizia ad intravedersi, anche se la strada per la riorganizzazione del quartiere Ferrovia, nonostante le ripetute operazioni compiute in coordinamento con le forze dell'ordine, sembra essere ancora lunga. Siamo contentissimi che l'amministrazione ci ha accontentati e sicuramente potrà consentire una maggiore garanzia di sicurezza alla comunità, a tutti i residenti, a tutti coloro che arrivano in città. Cos'altro c'è da fare? Piano piano stiamo cercando di organizzare tante cose, dagli eventi culturali al ripristino della normalità, alla lotta al degrado, alla criminalità. Fila anche di quattro ore per riscuotere la pensione, ma anche per pagare semplicemente una bolletta dell'energia elettrica, posta che viene recapitata staltuariamente con ritardi anche di diversi giorni. E quanto accade a Volturino, il paese dei Monti Dauni, di circa 1800 anime, dove l'ufficio postale è gestito solo da una persona che non riesce a soppire a tutti i servizi. E così parte l'ennesimo grido di aiuto e di denuncia del sindaco del centrofoggiano, Antonio Santacroce, pronto a presentare in procura l'ennesima denuncia per interruzione di pubblico servizio. Quella situazione del disservizio nello svolgimento del servizio postale ha assunto ormai una dimensione veramente inaccettabile e gravissima. Proprio stamattina si sono verificati ulteriori problemi nell'espletamento delle funzioni essenziali del servizio postale, non per colpa certamente del dipendente direttore locale del Comune di Volturino, dell'ufficio postale presso il Comune di Volturino, ma perché Poverino è subissato dalle richieste di interventi sia da parte di gente che deve riscuotere legittimamente la pensione, sia da parte di gente che deve procedere al ritiro della posta che non viene periodicamente distribuita. È una situazione paradossale, a limite del collasso, insostenibile, è un disservizio che integra gli estremi della interruzione del servizio di pubblica necessità, per la quale io la prossima settimana presenterò per l'ennesima volta un esposto alla Procura della Repubblica e vedremo se questo potrà determinare un movimento in senso positivo, perché non è possibile che un ufficio di queste dimensioni venga gestito soltanto da una persona che si prodiga, lo devo dire e ripetere, ma che purtroppo non riesce a sopperire alle mancanze strutturali dell'ufficio di poste italiane. Non è la prima volta che l'ufficio postale di Volturino vive a momenti di emergenza, emergenza che ricade tutto sui cittadini che registrano disagi non solo per le lunghe file all'unico sportello, ma anche per la posta, comprese le bollette, che spesso vengono recapitate con molti giorni di ritardo, con conseguenti problemi per la clientela, che potrebbe vedersi accollare sanzioni per il ritardo dei pagamenti per colpe a lei non imputabile. Testamento biologico se ne parla anche a Foggia. Lo scorso 14 dicembre il Parlamento, dopo un lungo iter, ha approvato la legge che permette di stabilire in anticipo, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, a quali esami, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari dare o non dare il proprio consenso. Un argomento, quello sul fine vita, che ha animato il dibattito politico e mediatico del Paese e che suscita ancora numerose perplessità e domande, sulle quali si è cercato di fare chiarezza ieri nel corso di un convegno organizzato dal Lions Club Foggia Host, dal Club per l'UNESCO di Foggia e dalla sezione AIGA di Foggia. Parleremo ovviamente anche della legge, perché molti cittadini non sanno che da qualche giorno hanno acquisito dei diritti, delle facoltà, che implicheranno anche delle problematiche di tipo medico, di tipo giuridico che dovranno conoscere, quindi facciamo formazione anche da questo punto di vista e sensibilizzazione su questo tema. Moderato dai giornalisti di Mediaset e Sky TG24, Emilio Carelli e Luca Telese, il dibattito è stato affrontato dai diversi punti di vista degli ospiti intervenuti, legale, etico e religioso, e dai protagonisti che in prima linea si sono spesi per l'approvazione della legge. Filomena Gallo, avvocato che coordina il collegio di difesa, che vede imputati Marco Cappato e Mina Welby per l'aiuto al suicidio per i casi di DJ Fabo e Davide Trentin, nonché segretario dell'associazione Luca Coscioni. Sì, una vittoria dopo 32 anni che aspettiamo una legge sul testamento biologico che parli di fine vita. Dobbiamo ricordare che la prima proposta di legge in Parlamento fu depositata da Loris Fortuna e in questo tempo che è trascorso, tutto il tempo trascorso, ho visto continue richieste dai cittadini, delle persone che chiedevano di poter autodeterminarsi, di poter scegliere sulla propria vita come stabilisce la Carta Costituzionale. L'incontro ha inoltre visto la partecipazione di Beppino Inglaro, padre di Eluana. È una vittoria comunque per quanti non hanno potuto usufruirne? Eh sì, perché lasciarsi intrappolare in questi meccanismi, io l'ho sempre definito è infernale. Significa il coronamento di una libertà e di un diritto fondamentale per tutte le persone che lo vogliono. È boom di visitatori per i musei pugliesi. Nel 2017 si è registrato infatti un incremento di quasi il 20% di visitatori in più, con incassi per oltre un milione di euro. Lo riferisce il MIBAC in una nota in cui evidenzia il record italiano di 50 milioni di visitatori nel 2017. Il museo di gran lunga più visitato in Puglia è Castel del Monte ad Andria. Al secondo posto, prima del Museo archeologico di Taranto, si piazza a sorpresa il Parco archeologico di Siponto con più di 81 mila visitatori. La suggestiva opera di Tre Soldi, una rete metallica di 14 metri che riporta in luce e restituisce allo sguardo l'antica chiesa romanica del XII secolo, è un riuscitissimo esempio di come arte contemporanea e archeologica possano coesistere. Sì, tutto è nato da un'idea un po' strana, un po' sperimentale, dalla scelta delle persone anche di cercare di fare qualcosa, di provare a fare qualcosa di fortemente diverso, contemporaneo. E poi c'è stato un riscontro che è stato molto importante. Questa è una cosa bella. Segue nella classifica dei musei più visitati in Puglia il Museo Nazionale archeologico di Manfredonia. Riaperto soltanto ad aprile dello scorso anno, il Castello Svevo Angioino ha ospitato in pochi mesi una serie di iniziative culturali su tutte la festa della musica e le giornate del patrimonio europeo che hanno fatto registrare la presenza di oltre 61 mila visitatori. Investire sulla cultura parrebbe essere la strada giusta in un paese con il patrimonio culturale e artistico che tutto il mondo ci invidia. Un pomeriggio di giochi e divertimento è quello che è andato in scena alla parrocchia San Michele di Foggia dove una ventina di bambini del centro diurno gestito dalla cooperativa Aura hanno ricevuto in dono giochi da parte di alcune associazioni della città di Foggia, Leo Club Foggia Host, Rotarat Club Foggia, Associazione Qualità della Vita, insieme ai volontari di Save the Children. Durante il pomeriggio i bambini guidati dagli operatori della cooperativa, insieme ai membri delle tre associazioni, hanno provato anche Let's Play Different, un gioco dell'oca il cui obiettivo è di sensibilizzare le persone normodotate alla disabilità e alla diversità. Inoltre, Leo, Rotaract e Associazione Qualità della Vita hanno consegnato dei doni didattici come compassi, squadre, goniometri e colori che affiancheranno i bambini durante il loro percorso scolastico. Tutto questo è stato reso possibile grazie ai fondi raccolti in occasione della festa di Natale, organizzata dai tre club lo scorso 17 dicembre. Lo spirito di servizio ha unito intorno ai più piccoli alcune delle realtà associative più importanti del territorio, concludendo il pomeriggio con una merenda tutti insieme. Grazie a tutti.